Papa Francesco è tornato a condannare il commercio delle armi, lo ha fatto al termine dell'udienza generale del primo maggio parlando a braccio dopo i saluti ai pellegrini in lingua italiana. Purtroppo oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi, terribili, guadagnare con la morte. Chiediamo per la pace, che vada avanti la pace. Per la pace, ha ribadito Francesco nel suo appello, occorre continuare a pregare. Preghiamo i popoli che sono vittime della guerra. La guerra sempre è una sconfitta, sempre. Pensiamo alla martoriata ucraina, che soffre tanto. Pensiamo agli abitanti della Palestina e di Israele che sono in guerra. Pensiamo ai Rohingya, al Myanmar e chiediamo la pace. Una esortazione che il Papa ha voluto ribadire con forza. Chiediamo la vera pace per questi popoli e per tutto il mondo.